Un'esperienza sicuramente da ricordare, un mese per mettersi alla prova per scoprire il bello della somiglianza nella diversità. Ha significato molto il viaggio vissuto da Chiara Vacchini a Dubai per l'Expo, dove ha fatto la volontaria nel padiglione della Santa Sede. Poco più di vent'anni, al terzo anno di studi internazionali e diritti umani all'università, Chiara, rientrata pochi giorni prima dell'inizio della guerra in Ucraina, negli Emirati Arabi ha toccato con mano il significato della parola fratellanza. Oggi è ancora più preziosa, visti i venti di guerra in cui viviamo. È stata un'esperienza incredibile, un'esperienza proprio di comunità, di come il mondo è piccolo, perché era molto impressionante come c'era tutto il mondo là, era tutto racchiuso in poco spazio, c'erano tutte queste culture, popoli diversi, tradizioni diverse, tutte quante assieme, insomma che si parlava assieme anche di futuro, di nuove tecnologie, anche di vivere assieme fratellanza. Il nostro padiglione riguardava la fratellanza, quindi insomma... Tu sei vicina al Cammino dei Francescani e sei andata lì anche per portare il tuo essere giovane con una scelta particolare. Quindi qual è il più che hai scoperto? L'essere mondo, l'essere tutti fratelli, quello proprio sperimentato. Anche appunto nel padiglione si parlava appunto di fratellanza e anche proprio i dialoghi con ragazzi atei, ragazzi musulmani di altre religioni. Siamo proprio tutti quanti fratelli e anche proprio i dialoghi, tutte le cose simili che abbiamo, anche le diversità che in realtà ci migliorano. Un altro appunto aspetto che trattavamo nel padiglione era come il mettere assieme le conoscenze di diverse culture, in quel caso insomma la cultura nostra, della chiesa, ma comunque occidentale, la cultura dei paesi arabi, islamica, possa veramente essere di aiuto a noi come persone, ma anche alle nostre società. E questo l'ho proprio vissuto con mano, anche il comunicare, il capirsi, nonostante non si parli la stessa lingua, si crede in cose diverse, si vive in modi diversi, eppure c'è sempre quella cosa che ci accomuna l'essere uomini, l'essere fratelli, l'essere umani e alla fine il volerci bene, l'essere anche curiosi di conoscersi.